E' cominciata con il positivo esito del tavolo tecnico e la riunione della commissione di vigilanza alla settimana del karting a Capodorlando, valida per il campionato regionale. Paolo Starvaggi, pilota in attività e Rosario Galipò, che curano la manifestazione da dieci anni, hanno incontrato nella giornata di lunedì la rappresentanza comunale e gli esperti organizzatori della logistica di karting Sicilia, per definire il piano di sicurezza, le modifiche alla viabilità e quant'altro in funzione della migliore riuscita della Kermess motoristica, prevista per domenica 24 novembre. Il sindaco di Capodorlando, Franco Ingrillia, ha concesso il patrocinio alla manifestazione e si è detto entusiasta in virtù del successo riscontrato nelle precedenti edizioni. Il circuito, uno dei più veloci tra i cittadini, sarà allestito durante la giornata di venerdì, per dare la possibilità ai team di effettuare le prime prove di allenamento a partire dal pomeriggio di sabato. Oltre il lungomare, la pista ricade su una parte della via Trazzera Marina e su alcune traverse contigue, attesi i migliori piloti di specialità, molti dei quali campioni italiani e alcuni già sicuri del titolo regionale. Il programma della domenica prevede alle nove le prove libere, alle undici quelle cronometrate e alle quattordici le finali. La premiazione è fissata intorno alle 18.30.